Ok, se parlo tipo si sente? Ok, se parlo tipo si sente? Ok, se parlo tipo si sente? A posto, quindi iniziamo? Ok, se parlo tipo si sente? Ok, questo è un maione. Ok, se parlo tipo si sente? 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 Ok, grazie a chi ci sta seguendo, questa come ho detto prima era on my own, adesso c'è il nostro primo singolo dopo che gli altri si saranno accordati, ovvero Ops. Ok, se parlo tipo si sente? 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok La prossima è una delle prime Canzoni che abbiamo scritto Nonché una delle più difficili Ma ci si prova sempre Grazie a tutti 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 Per continuare a seguirci Andiamo avanti con la prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tutto a tutti Grazie 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 a tutti Alla prossima